Prova. Allora, metto in votazione l'articolo 15. Allora, la votazione è aperta. L'articolo. Bolognesi. Cenni. Bene. La votazione è chiusa. Favorevoli 313, contrari 16. La Camera approva. Allora, passiamo all'articolo 16. Quindi ho bisogno della parere relatrice del 16.1. Grazie. 16.1. Signora Presidente, parere contrario. D'accordo. Grazie, Governo. Contraria, Presidente. Grazie. Allora, nessuno chiede di intervenire sul 16.1. No, anzi, pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 16. Per essere precisi, quindi, la votazione è aperta. Palmieri. 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 No, anzi. No, anzi. No, anzi. Ok, allora. Ci siamo. la votazione